Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo arrivati alla mappa Run From It Spero che sia molto breve come mappa, ovviamente i fail li toglierò Però, allora, sappiate che la mappa purtroppo è di nuovo buia E vi faccio vedere delle cose prima di iniziare questa mappa Allora, bisogna capire il meccanismo di questa mappa, scusate se uso idclip Allora, no Perché mai? Ok Dov'è, 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 dov'è Dovrebbe esserci un... No No I DDT Vediamo un poco dove è Dovrebbe esserci da qualche parte Ecco, forse è questo Questo piccolo quadratino qui Eccolo qua Dov'è? Lo vedete questo? Questo è l'avatar di noi stessi Questa mappa è a tempo Una volta superato un punto della mappa Cadrà Che inizierà a scendere Questa Pressa Che andrà a finire su questo barile e ci ucciderà Sì, esatto Abbiamo un tempo limitato per completare la mappa Non si può fare 100% a questa mappa Bisogna semplicemente correre Perciò dicevo che è molto atipica E soprattutto, ragazzi Questo... Questa Enorme trappola Anzi no, enorme Piccola Questa trappola che vi permetterà poi Se non ce la fate di morire immediatamente Dura esattamente un minuto Un minuto Inizia prima Dalla testa inizia a farvi male Poi quando arrivo al bacino Bam Esplodete Con... Guardate Io ci provo, eh Vedete? Mi faccio male da solo Per farvi capire che è veramente quello che dicevo io Quindi come, come fare? No Venite, venite Bisogna ammazzare questi imp prima Capirete poi il perché E dai Guarda, ottimo così se venite Ok Sembra Ah C'è un pinky Cioè, no c'è un pinky C'è un Ehm Penelimental sopra Ok Pronti Al penultimo gradino Che c'è scritto qui? Run Vedete? Allora, facciamo così Id, behold, l Id, behold, l Ok Così ce l'abbiamo 3, 2, 1 Via Corri, corri, corri No, ho sbagliato Ho sbagliato già Ho sbagliato già Corri, 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 corri in strafe Corri in strafe Dai Corri di qua Poi di qua Apri qui Poi di qua Correte, correte, correte Non vi fermate, non vi fermate Non vi fermate Non credo che ce la farò perso, c'è troppo tempo Ecco Questa è una trappola che vi fa scendere la mappa E non ce la fate più Morite immediatamente Capite? Perché potrebbe durare poco come potrebbe durare tanto Musica 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 si jesu oh neanche questo è fatto hello nerd questa mappa la vedrete nella prossima puntata vi ringrazio per essere stati con me ci vediamo alla prossima